Oggi è il 30 settembre, avevate promesso cantiere chiuso, gli impegni sono stati mantenuti, 20 giorni per concludere con le rifiniature e poi via Cenami sarà perfetta. Intanto, come prima cosa, in un'amministrazione c'eravamo preso un impegno che era quello della chiusura del 30 settembre. Come si vede, come vedi direttamente sul cantiere, il lavoro sostanzialmente è stato finito, tranne quegli interventi di rifinitura degli ultimi giorni. La parte che vada via 4 novembre alla chiesa sarà carrabile già nei prossimi giorni, quindi potranno retransitare le macchine. Ci scusiamo con i cittadini e i commercianti, i cittadini residenti che hanno dovuto subire in questi mesi notevoli disagi, però l'intervento è stato un intervento estremamente importante perché riqualifica tutta quest'area, un'area strategica per Massarosa Capoluogo e oltre alla riqualificazione ci teniamo anche a presare che è stato fatto tutto un lavoro nei sottoservizi, quindi di risanamento strutturale dei sottoservizi che ne avevano anche particolarmente bisogno. L'aspetto importante è questo, sostanzialmente noi l'impegno che c'eravamo preso era che per il 30 si chiudessero interventi strutturali, tranne poi le rifiniture, la pubblica nominazione, ma che non comportano un disagio come è stato fuori questi mesi e siamo qui ormai alla fine della giornata e i lavori sono stati conclusi nella sua sostanza.